In questi giorni di lotta contro Covid-19, le aziende sanitarie alla Regione Veneto stanno mettendo in campo ogni strumento per far fronte all'emergenza. Così si razionalizza, sospese alcune attività per far posto ad altre, si fa spazio a pazienti Covid, mentre si individuano percorsi diversi all'interno delle strutture ospedaliere per i pazienti non Covid, ma che hanno bisogno di cure. Così se all'ospedale di Sant'Orso, diventato ospedale Covid, restano aperti i reparti di dialisi, psichiatria, il materno infantile e il pronto soccorso per i codici bianchi e verdi, nel Basso Vicentino l'ospedale di Noventa diventa struttura di riferimento sempre in ambito Covid. Prevede che il paziente post-acuto, quello che è già stato ricoverato nelle malattie infettive, nelle terapie intensive dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, abbia un'ultima fase pre-guarigione prima di essere dichiarato guarito e mandato a domicilio. Quindi il paziente rimane per alcuni giorni in letto a Noventa, evitiamo un rischio che magari rientrando in famiglia possa avere ancora qualche coda di contagiosità, nello stesso tempo è un paziente ormai in fase di guarigione, stabilizzato, che ha bisogno anche di un livello assistenziale più basso di quanto non sia invece il livello assistenziale dato all'interno delle malattie infettive, dell'area acuta o dell'area di terapia intensiva dell'ospedale San Bortolo. Una ventina attualmente i pazienti che si trovano nella struttura ospedaliera, alcuni arrivati su base volontaria. Si tratta in quest'ultimo caso di persone che hanno scelto di rimanere in ambito ospedaliero perché a casa avrebbero potuto infettare familiari o perché da soli. In tema di tamponi sugli 84.000 effettuati ad oggi, date Regione Veneto, il 10,6% è stato fatto nell'usla Otto Berica. In una situazione in continua evoluzione si aggiungono anche nuovi assunti, tra medici, infermieri ed operatori sociosanitari, 41 sono quelle destinate all'usla Otto.